Bella ragazzi, bentornati finalmente su FIFA, sulla FIFA Challenge Oggi affronteremo la partita con questo team Willis, Ozzy Osbourne, Il Cugino, Mewsman, Wesley Nonsnyder, Mon Byung-Woo, Al-Ruahili, Sisto, Jordan London, Beck Nasser Questo signori è il team più scarso di FIFA 14 49 di valutazione, 38 di intesa, senza l'allenatore, senza contare la panchina con, che ci ho messo, gente random, lui è verde Però l'uomo fondamentale sarà lui, Mon Byung-Woo, con la sua velocità incredibile Ok signori, 65, 63, 61, vediamo cosa riusciamo a fare, cambia maglia Porca Evo, ma uno ci va a prendere la maglietta rossa e la seconda arancione, c'hai dei problemi Vediamo un po' Ma regà, se riesco a vincere questa, voglio un premio Le 84 dentiste è troppo, questo c'ha gli argenti in attacco No eh, incomincia, portier Capito che sei il più scarso del mondo eh, però Let's go, let's go squadrona, let's go Guarda che azione che te crea Ma che cazzo fai? Sisto, 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 Sisto Passagliela, ripassagliela Oddio, Al-Ruahili, oddio, la velocità Al-Ruahili Cioè secondo FIFA, c'è gente, cioè questi non sanno giocare a pallone raga Siamo in attacco incredibile, incredibile, dai segno Già lo so come va a finire sta partita raga Che gioco bene solo sti minuti e poi, eh vabbè Eh, si è smarcato 4 persone, eh vabbè Eh, non si può fermare, eh non si può fermare 1-0 Oh, puttana, lo sapevo Assurdo, un tiro in porta affatto Ma che cazzo fa? Salta, ma è stupido Ha saltato sul pallone Che imbecille Più lento eh Questi sono lenti pure a fare rimesso raga Ma se questi sono lenti pure a cagare Perché sono lenti in tutto Grande, grande, grande vincere in palli Grande vincere in palli ancora, un mostro Oh mio Dio, fallo Non può essere così scherzo una persona No, cioè, sta dentro FIFA non può essere così scherzo Cioè, se me danno di statistica me, sono più forte raga Su, squadra più forza, più scarsa del mondo Comunque nei commenti scrivetemi Assolutamente altre sfide da fare Guarda come ne usciamo con classe Con molta classe La terza media, se non c'è Arruaili ancora? Arruaili! Eh dai però, una chi entra raga, una Una chi ha davanti, una Gran colpo di testa all'indietro Mai visto un colpo di testa difensivo così bello E controlla sto palloni Ma che problemi c'hai? No, vabbè, questo si è elevato raga, non è possibile Passala, maledizione a te E alla tua madre che ti ha fatto Cosa stanno facendo? Fallo! Fallo! Non è possibile! Fallo! È fallo! Non è possibile! Non è umana come cosa che sbagliano questi gol Dai raga, siamo rotti al culo a questo Su, non è vero Raga, questo non si può fermare Non si può fermare È troppo forte È il Cristiano Ronaldo dei bronzi Gli stronzi più cari Gol Fallo! Ma vai a tirare! Ma che problemi mentali c'hanno? Ma è illegale essere così scarsi Raga Guarda che cosa sta succedendo No, non puoi segnare questa squadra Raga, è impossibile Cioè, ci sono delle difficoltà Veramente serie Ma veramente tanto Quello che va per fare E rigore! Grande rigore Grande calcio di rigore Un olimpico cremito per questa sfida incredibile Cos'è che non c'è il verde? Vai Beck Tu mi ultimo te Beck Che tre vada Beck Pia la palla Pia la palla Pia la palla No, non ho pia la palla Ma mi sono allevato la soddisfazione del fangolo E sto a posto Sto a posto con me stesso Ma poi Ma perché il fangolo fermi? No, vabbè Cioè, quello è saltato da schiena Raga Non stiamo scherzando Non stiamo scherzando È saltato con la schiena E scapoli ammogliati, raga E scapoli ammogliati Cosa fa? Dai, era buona Vabbè raga Questa purtroppo l'abbiamo persa Però ci siamo difesi Anche con la squadra più scarsa del mondo Devo dire Ci siamo difesi Questa era la FIFA Challenge per oggi Ricordate In descrizione c'è il sito per i crediti C'è staggiturato Poi cazzo Poi pare Noi ci sentiamo alla prossima Sotto nei commenti Voglio vedere un miliardo di commenti Con la prossima FIFA Challenge Sto tentando di grattarmi la schiena In posizioni assurde Se siamo mangiati troppi cori Questa Poi abbiamo vici La squadra c'era È stato un buono Un buon tentativo di vittoria Purtroppo ci è andata male Purtroppo l'avversario È stato molto più Molto più Ok basta Abbiamo fatto addirittura 5 tiri in pos Dai Avevamo meritata questa Super meritata Non potete di niente Vabbè Ci sentiamo alla prossima Lasciate un commento Arriviamo a 15 mila like Bella